Partono i lavori per l'interramento dei tralicci al quartiere nord di Magenta. Dopo un lungo iter, Terna ha annunciato l'inizio dei lavori. Una battaglia che il Partito Democratico Magentino ha portato avanti per anni, sia quando era alla guida dell'amministrazione che in questi anni all'opposizione. Abbiamo avuto la notizia da Terna che finalmente inizieranno i lavori prima nella centrale elettrica e poi quindi inizieranno i lavori per questa grande opera che è l'interramento dei tralicci in zona nord di Magenta. Noi, gruppo consigliare del Partito Democratico, siamo molto soddisfatti perché abbiamo seguito passo dopo passo la realizzazione di questa opera, l'abbiamo stimolata negli anni, sia quando eravamo noi in amministrazione, tirando fuori dalla burocrazia questo progetto che era rimasto un pochino impastoiato in tutte le fasi burocratiche e poi nel 2015 organizzando insieme a Terna una giornata, un Open Day a Casa Giacobbe a cui hanno partecipato tantissimi cittadini molto interessati in cui c'era la descrizione dell'opera. Quindi finalmente questa opera verrà fatta a Magenta in zona nord, verranno interrati i tralicci, quindi ci sarà un vantaggio notevole sia per quanto riguarda la salute pubblica, naturalmente non solo della zona nord, ma di tutta la città di Magenta e ci sarà un miglioramento paesaggistico per la scomparsa di questi tralicci e anche poi un vantaggio per l'asfaltatura delle strade che verranno interessate da questo progetto, strade che hanno notevolmente bisogno di essere asfaltate. Noi come gruppo consigliare del Partito Democratico abbiamo in questi anni un Consiglio Comunale portato numerose interrogazioni in proposito proprio per stimolare questa amministrazione che per la verità è stata abbastanza silente, sembrava essersi dimenticata di questo progetto e noi abbiamo cercato di mantenere viva l'attenzione e finalmente la soddisfazione massima perché questo progetto grosso, importante, verrà realizzato da Terna.